Juve, operazione riuscita per Fagioli, tempi di recupero. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. L'operazione Nicolo Fagioli è andata a buon fine, questa mattina il centrocampista bianconero è stato operato alla clavicola destra dopo un grave infortunio al campo di Ramon Sanchez Pizzoan nella semifinale di Europa League contro il Siviglia. A 39 minuti di gioco, dopo un confronto con Gudelge, l'ex centrocampista cremonese ha lasciato il campo in lacrime e in barella, la stagione è finita per lui e un problema in più per Allegri che dovrà rinunciare alla sua prestazione in campo negli ultimi tre giorni di campionato. Fagioli, il rapporto medico. Dopo l'operazione, la clinica dove Fagioli è ricoverato ha rilasciato il classico rapporto medico sulle condizioni del giocatore, questa mattina Nicolo Fagioli è stato operato per osteosintesi della frattura della clavicola destra, la partecipazione è stata eseguita dal professore Roberto Rossi, alla presenza del dot medico sociale. Marco Freschi, alla clinica Sedes Sapientia. Il tempo di recupero è di circa due mesi. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.